Che cos'è la realtà? Per esempio, io in questo momento sono realmente lì dove voi mi guardate e in che senso io sono presente oppure sono assente? Sono delle vecchissime domande che si pone la filosofia e molto spesso la filosofia e anche non la filosofia si è trovato a dire che tutto sommato la realtà non è un concetto così importante e anche perché tutto quello che ci sta attorno potrebbe essere un'illusione. La grande immagine di Schopenhauer nel mondo come volontà rappresentazione che ci dice l'unica cosa che noi sappiamo davvero è che c'è una mente che contempla qualcosa, un occhio che guarda ma che cosa ci sia là fuori, che ci sia un mondo là fuori questo noi non possiamo saperlo. I filosofi scettici o antirealisti in fondo ci danno un'immagine del mondo che è simile a quella che viene descritta in Matrix quando c'è quel personaggio che mangia una bistecca e dice io so che questa bistecca non esiste, so anche che quando la infilerò in bocca Matrix suggerirà al mio cervello che è succosa e deliziosa. Dopo nove anni sa che cosa ho capito? Che l'ignoranza è un bene. Ora la domanda che dobbiamo porci è davvero l'ignoranza è un bene? Davvero non è poi così importante che ci sia un mondo là fuori? Io non credo, non credo che questo punto sia irrilevante perché appunto quando i filosofi dicono che la realtà, l'oggettività, la verità sono delle nozioni superfue, sono stati dati tanti argomenti a vantaggio di questo, in fondo non si rendono conto che se noi non possedessimo delle nozioni di realtà, delle nozioni di verità, delle nozioni di mondo esterno, allora tutto quello che è significativo per noi cambierebbe di senso. In fondo vedere delle persone vere e proprie e pensare di vedere delle persone non ci sarebbe nessuna differenza. Pensare di compiere delle azioni morali oppure compiere davvero delle azioni morali, di nuovo non ci sarebbe nessuna differenza. Essere felici e pensare di essere felici non ci sarebbe nessuna differenza. Vi invito a riflettere su questa circostanza. Il linguaggio fa una bella differenza tra la tristezza e la depressione e la felicità e l'euforia. Da una parte c'è l'essere tristi e l'essere felici e dall'altra c'è l'essere depressi e l'essere euforici. Cosa fa questa differenza? La differenza è che nell'essere tristi o nell'essere felici c'è un mondo esterno che ci risponde, mentre nell'essere depressi o nell'essere euforici sono degli stati d'animo che potrebbero aver luogo anche senza la realtà. Notate bene, certe volte sui farmaci si dice attenzione può provocare euforia, non dice mai può provocare felicità. Dopo nove anni sa che cosa ho capito? Che l'ignoranza è un bene. Ma da che cosa dipende il fatto che così tanti filosofi e filosofi importanti abbiano detto che in fondo o la realtà non è qualcosa che sta là fuori oppure che è qualcosa che esiste solo se noi abbiamo linguaggio, se noi abbiamo schemi concettuali, insomma come se la realtà fosse qualcosa che dipende da noi invece che da se stessa, dal carattere che siamo abituati ad attribuire al reale, di stare lì fuori, bello, tranquillo, senza nessun tipo di intervento da parte nostra. Ecco, la causa di questo è quello che propongo di chiamare una confusione tra epistemologia e ontologia, cioè tra quello che noi sappiamo, l'epistemologia, e quello che c'è indipendentemente da tutto quello che noi sappiamo, che è l'ontologia. E diciamo che il massimo del reale è proprio dato dall'ontologia, da quello star fuori, da quel resistere, da quell'essere qualcosa che su cui si inciampa e che non ci lascia fare quello che vogliamo. Cerchiamo di distinguere un po' che cosa sono queste due dimensioni e riusciremo meglio a capire per quale motivo appunto certi filosofi abbiano detto che il reale è qualcosa che sta nella nostra testa, perché appunto pensavano, confondevano il reale con l'epistemologia, con il sapere che noi abbiamo del reale. Allora, appunto, l'epistemologia è quello che noi sappiamo. Allora, per esempio, io so che l'acqua è H2O, lo so adesso, me l'hanno insegnato, 200 anni fa non si sapeva che l'acqua era H2O e non di meno proprietà dell'acqua erano tali e quali sia che io sapessi che H2O sia che lo ignorassi. Se per disgrazie io adesso andassi a rovesciare dell'acqua sopra il computer, il computer si rovinerebbe anche senza sapere assolutamente niente del fatto che l'acqua è H2O. Quindi queste sono proprietà del reale. Allora, l'epistemologia è che quando io so che è H2O, quando io parlo, quando deliberatamente ragiono e penso e descrivo le mie esperienze a partire da delle mie conoscenze, dei miei pensieri, dei miei schemi concettuali, dei miei apparati percettivi. Però al di là di questo, là fuori, indipendentemente da tutto quello che ho nella mia testa, da quello che ho letto nei libri, c'è un mondo che esiste, c'era prima di me, ci sarà dopo di me. C'erano i dinosauri e certo non c'era nessuno che poteva aver creato i dinosauri con i miei concetti, perché io non c'ero, non avevo creato i dinosauri con i miei concetti, c'erano già lì. C'era tutto questo enorme mondo ontologico indifferente, indipendente. Sembra brutto, perché uno dice, oh come sarebbe bello se invece tutto dipendesse dai miei concetti. Per esempio non sarei mai deluso, non sarei mai sorpreso, però avrei sempre l'impossibilità di distinguere che cosa è semplicemente sogno e che cosa è invece realtà. Fortunatamente non è così. C'è un mondo, ci resiste, ci dà delle soddisfazioni e ci dà anche delle delusioni, però ci segnala che esiste una realtà su cui ci giochiamo tutto, su cui soprattutto ne va della nostra felicità e della nostra infelicità. Da almeno un secolo e mezzo il problema filosofico della realtà, cioè di ciò che esiste e di come lo conosciamo, difficilmente può prescindere dalle conoscenze biologiche sulle caratteristiche dei nostri apparati percettivi, delle nostre strutture neurologiche che elaborano gli stimoli che noi acquisiamo dall'ambiente e dall'origine di queste strutture cognitive. Negli anni 60 e 70 del secolo scorso si è strutturata in qualche modo anche una corrente, se così possiamo dire, epistemologica che è stata definita da uno psicologo ed epistemologo statunitense, Donald Campbell, epistemologia evoluzionistica e di cui fanno parte, in cui si sono riconosciute figure rilevanti del pensiero biologico ma anche filosofico del Novecento come Conrad Lorenz e Karl Popper. L'epistemologia evoluzionistica dice in sostanza che l'evoluzione stessa è un processo di conoscenza in quanto attraverso il meccanismo della selezione naturale e una serie, diciamo, anche di altri processi di cambiamento evolutivo a livello delle popolazioni di organismi, nei genomi delle specie biologiche si immagazzinano informazioni sulle caratteristiche dell'ambiente. Da questo punto di vista possiamo dire che le strutture cognitive che poi consentono a questi organismi di interagire e di intercettare gli stimoli dell'ambiente sono in qualche modo predefinite, quindi sono in qualche maniera a priori da un punto di vista dell'esperienza del singolo organismo e vengono selezionate e acquisite a posteriori attraverso il processo della selezione naturale. Questo tra l'altro implica che diversi tipi di organismi intercettano, se vogliamo, caratteristiche diverse dell'ambiente in cui si trovano, con cui si trovano a interagire, che altri non colgono e noi per esempio sappiamo che esistono attraverso strumenti e tecnologie che ci consentono di intercettarli attraverso le ipotesi che possiamo costruire usando il metodo scientifico. Benvenuti su questo lato dell'oceano, sono Achille Varzi dalla Columbia University di New York. La realtà, la realtà è tutto, non c'è nient'altro letteralmente, il che non significa che ci si debba concentrare soltanto su ciò che è reale. Spesso è importante, importantissimo tenere presente anche ciò che è soltanto possibile, perché proprio esaminando il ventaglio di tutte le possibilità che ad ogni istante si dispiegano dinanzi a noi, che ci hai dato di far sì che la realtà sia davvero come vogliamo e non semplicemente il frutto di scelte e decisioni arbitrarie o in qualche modo ha infondato. Ma concentriamoci sulla realtà, anzi, su quella posizione filosofica che si chiama realismo. Il filosofo realista ci dice che la realtà esiste, ma ci dice anche che la realtà esiste ed è quello che è, indipendentemente da noi, cioè indipendentemente dalle nostre credenze, dalle nostre percezioni e dalla nostra capacità di avere esperienze veridiche. Più in generale, il filosofo realista ci dice due cose. Primo, ci dice che esistono certe cose, appunto indipendentemente da come la si pensi. Ci dirà, per esempio, che esistono oggetti materiali come i sassi o le montagne, oppure eventi o processi come le capriole o le guerre, oppure entità astratte come i numeri o i significati, forse gli angeli e così via. Ma il filosofo realista ci dice anche un'altra cosa, cioè ci dice che queste cose che esistono e che esistono indipendentemente da noi sono entità di un certo tipo, hanno una loro natura, una loro identità e che questo loro essere, ciò che sono, esula dal nostro dominio d'azione. In un certo senso il compito della filosofia, della metafisica, ma direi della scienza in senso lato, per il filosofo realista è proprio quello di portare alla luce questa struttura metafisica del mondo, la struttura metafisica delle cose che formano l'arredo della realtà che ci circonda. Ora, sul primo punto ci sarebbe naturalmente molto da discutere, intanto per cominciare che esiste qualcosa piuttosto che nulla è un vecchio quesito, ma soprattutto è difficile mettersi d'accordo su che cosa esiste davvero? Le montagne esistono davvero? Esistono davvero le capriole? Esistono davvero i numeri e le entità stratte? Ecco, su questo naturalmente ci si ritrova poi a discutere, però una cosa sembra chiara, cioè che la risposta a queste domande risieda più nel mondo che nella nostra testa, cioè queste cose se esistono, esistono indipendentemente da noi. Diverso invece è il secondo ordine di quesiti, cioè quelli riguardanti la natura e l'identità delle cose che esistono. Come dicevo, per il filosofo realista si tratta di portare alla luce la struttura metafisica di queste cose che esistono. Però si potrebbe pensare che buona parte di questa struttura in realtà risieda più nella nostra testa che nel mondo stesso, che risieda nelle nostre pratiche organizzatrici, nel complesso sistema di concetti e di categorie di cui ci serviamo per descrivere la realtà e che sottendono al nostro bisogno di descriverla in quel modo. Prendiamo per esempio, che ne so, le montagne. Ok, le montagne esistono, ma che siano cose così e cosà, che abbiano certe condizioni di identità, che siano entità di un certo tipo, che comincino ad esistere in un certo momento e cessano di esistere in un altro momento e così via. Tutto questo sembrerebbe dipendere in buona parte anche dal nostro concetto di montagna. Ma se le cose stanno così per le montagne, forse stanno così anche per le altre cose, a partire da noi stessi, le persone. In fondo ci si ritrova spesso a discutere su temi importanti come l'aborto, l'eutanasia, che dipendono proprio da questa questione. Siamo alla ricerca di risposte oggettive, possiamo alla ricerca di risposte che in qualche modo dipendono dal nostro concetto di persona, un concetto sul quale in fondo si tratta di mettersi d'accordo. Ecco, questo è naturalmente un dilemma, un dilemma importantissimo però, perché è qui che si gioca la vera partita filosofica, perché dalla soluzione di questo tipo di dilemma segue poi tutto, in etica, come in estetica, come in epistemologia. Perché tutto in fondo ha a che fare con la realtà, ma tutto ha a che fare anche con il nostro modo di rapportarsi alla realtà. Un caro saluto a tutti. Uno dei giochi più diffusi tra i filosofi, e io devo farmi qua portatore della teoria di certi filosofi che non condivido, però bisogna avere una par condicio, è che noi non abbiamo un vero e proprio rapporto con il mondo esterno, ma sempre e soltanto mediato da delle cose che abbiamo sentito, da come sono fatti i nostri organi di senso, e insomma senza la mediazione di linguaggio, sapere, schemi concettuali, in fondo noi non abbiamo un rapporto con una cosa che sta lì fuori e che si chiama mondo. Non sono d'accordo, Maurizio. A me sembra che la forza dell'idea che esistano soltanto interpretazioni, che in qualche modo mediano il nostro rapporto con la realtà e che quindi noi non possiamo veramente attingere una realtà indipendente, dipende dal fatto che noi crediamo di poter immaginare interpretazioni, teorie, visioni del mondo, schemi concettuali completamente diversi dai nostri. Allora diciamo, se si può interpretare in un modo completamente diverso la realtà là fuori, vuol dire che in fondo la realtà non la attingiamo veramente, se no ci sarebbero elementi comuni agli schemi che sembrano in conflitto, che sono in conflitto. Tuttavia come ha detto un grande filosofo americano che si chiamava Donald Davidson, questa idea non funziona, non funziona perché non è vero che noi possiamo immaginare schemi concettuali radicalmente diversi dal nostro. Perché se immaginiamo qualcuno che per esempio interpreti la realtà in un modo che per noi è del tutto inconcepibile, completamente diverso. Bene, ma perché dovremmo dire che quell'essere è razionale? Come faremmo a dire che ha uno schema concettuale? Non lo capiremmo come schema concettuale se non c'è possibilità di comprendere di che cosa sta parlando, cosa sta pensando. Diremmo che non pensa e non parla, per noi non è un essere razionale. Quindi dice Davidson, la verità è che schemi inconmensurabili, schemi concettuali inconmensurabili non esistono. Ma sono tutti modi di interpretare la stessa realtà, c'è qualcosa in comune che permette l'accordo. Noi ci interpretiamo gli uni con gli altri proprio perché condividiamo un mondo comune. E quindi mi pare che l'idea di schemi concettuali che mediano rispetto a una realtà inattingibile non regga. Ecco, mi chiedo se non si riesca, forse si tratterebbe proprio di distinguere tre tipi di oggetti, perché fa conto questo. Io adesso prendo questo utile, utilissimo oggetto, recentissimo, ma si può sempre imparare, che si chiama diritto giudiziario civile italiano. Nel futuro non si sa mai e a questo punto vedo degli articoli di legge, per esempio, è questione molto controversa se l'obbligo imposto sotto pene di unilità ai procuratori delle parti di notificarsi reciprocamente cinque giorni prima di quello dell'esame dei testimoni le generalità di costoro. Questa cosa qua secondo me non esiste in natura, è stata scritta da delle persone che volevano formare un articolo di legge che per l'appunto è il 572. Cinque giorni prima che arrivino i testimoni bisogna notificarle le generalità dei testimoni. Questa cosa qua sicuramente dipende dai nostri schemi concettuali, perché bisogna avere la nozione di testimone, si dividono i giorni della settimana, c'è l'articolo 572, eccetera. Quindi questa cosa qua è sicuramente dipendente dai nostri schemi concettuali, mentre per esempio il peso di questo non piccolo libro non dipende dai nostri schemi concettuali, ma dipende dalle leggi di natura, dalla gravità e cose di questo genere che fanno parte del mondo naturale. Sì, naturalmente sono d'accordissimo sulla distinzione, quindi oggetti sociali che dipendono da noi almeno in parte per la loro esistenza e oggetti naturali che invece esistono indipendentemente da noi e dalla nostra possibilità di conoscerli. C'è tutto un settore intermedio che è interessante studiare, che è quello per esempio delle verità astratte, per esempio le verità della matematica e gli oggetti della matematica. Esistono i numeri indipendentemente dalla possibilità che una mente li conosca. Se non vi fossero più menti, se non vi fosse nessun essere razionale, scomparisse tutta la razionalità dall'universo, avrebbe senso dire che 2 più 2 fa 4? Oppure, come dice qualcuno, non sarebbe più vero nel senso che le verità della matematica dipendono dal fatto che una mente le costruisca e che costruisca quegli enti che noi consideriamo reali quando facciamo matematica. Ecco, il dibattito sulla realtà dell'entità e delle verità della matematica, quello resta aperto anche se, come in fondo facciamo entrambi, si crede fortemente nel realismo in altri ambiti. Quindi diciamo, ci sono degli oggetti che sicuramente non dipendono da noi, come dire, non ci piove su questo. Poi invece ci sono delle cose che molto probabilmente, anzi sicuramente dipendono da noi queste cose qua. Poi ci sono delle cose che non si sa da chi dipendano, cioè che dipende da come la vedono le persone, che studiano come si dipende. Insomma, come diceva Amleto, ci sono più cose fra la terra e il cielo che in tutte le nostre filosofie. Il che poi significa che la realtà è bella perché è varia. Non so se significa anche che siccome la realtà in verità non è solo varia, ma è molto varia, che sia anche molto bella. Qua ho dei dubbi, non so. Voi che ne pensate? L'idea di realtà è un'idea sulla quale molti filosofi sono inciampati, ma per comprenderla bene dobbiamo contrapporla a qualcosa che appunto, secondo il senso comune, non è reale. pensate a una macchina soltanto desiderata, una macchina immaginata. Quella evidentemente non è reale, perché reale è solo una macchina che è parcheggiata sotto casa. Quindi l'idea di realtà nasce fondamentalmente da un contrasto tra ciò che vorremmo fosse e ciò che vorremmo accadesse e ciò che invece è nell'ordine delle cose. E proprio il conflitto tra ciò che vorremmo fosse e ciò che è, è all'origine di questo senso di realtà del quale dobbiamo immediatamente tener conto, intanto per raggiungere la saggezza, perché la saggezza, la porta principale per arrivare alla saggezza è riconoscere che c'è un modo in cui le cose stanno che non dipende da noi e accettarlo nella misura in cui non lo possiamo modificare. Ma il senso profondo che c'è un modo in cui le cose stanno è anche all'origine della scienza, perché è proprio la fiducia e la fede, che non è una fede trascendente, ma una fede immanente, nel fatto che c'è un modo in cui le cose stanno che dà origine al nostro tentativo di comprendere appunto come sia fatta la realtà e quali siano i suoi meccanismi nascosti. Il fatto che ci sia un modo in cui le cose stanno è anche una semplice presupposizione del nostro parlare. Quindi il parlare e anche il cercare di scomprendere il mondo presuppongono la fiducia in una realtà indipendente da noi. Quindi il fatto che esiste un modo in cui le cose stanno è alla base del parlare, alla base del discutere, perché non avrebbe nemmeno senso discutere con un'altra persona se non fossimo convinti che uno dei due punti di vista è quello giusto e quindi che c'è un'oggettività. È alla base della scienza, perché la scienza ha senso soltanto se c'è un modo in cui le cose stanno, che è la realtà appunto, è l'oggettività che è resa possibile da un ordine indipendente da noi. Ed è anche alla base della saggezza, perché la saggezza necessariamente passa attraverso l'accettazione di ciò che non dipende da noi e quindi dalla consapevolezza di essere parte di un mondo molto più vasto di noi passa l'equilibrio e la felicità. Che il mondo esista, che fuori vi siano cose, in fondo non lo dubita veramente nessuno. Nessuno crede che lo scettico abbia ragione. Il problema è spiegare perché ha ragione. Però i filosofi sono concordi sul fatto che là fuori c'è un mondo. La questione fondamentale non è se là fuori c'è il mondo, ma come è fatto questo mondo, quali entità dobbiamo accettare nella nostra ontologia, cioè quali cose dobbiamo pensare che esistono. Questo è stato spesso presentato come un grande dibattito tra coloro i quali hanno accentuato la quantità di cose diverse che esistono e i filosofi più parsimoniosi che hanno cercato invece di diminuire la quantità di cose che esistono. Per esempio, Ockham, il grande filosofo inglese del Trecento, è stato molto parsimonioso. Gli è anche stato attribuito un famoso detto, Enzia non sunt multiplicanda preter necessitatem. Che significa? Significa che non bisogna accettare nella nostra ontologia entità di cui non c'è bisogno. Ockham pensava di più alle spiegazioni, pensava che non dobbiamo postulare spiegazioni bizzarre quando ci sono spiegazioni semplici. Però in fondo è la stessa cosa, perché le spiegazioni bizzarre fanno spesso riferimento ad entità strane. Lui dice non dobbiamo mai accettare entità strane quando non ce n'è veramente bisogno. Qual era l'idea di Ockham? Era di respingere una forma di proliferazione ontologica, di eccesso, di realismo che era molto presente nella filosofia. Da chi derivava? Derivava da Platone. E allora Quine, spesso giocava, il grande filosofo americano Quine, Platone, autore di saggi ontologici importantissimi, ha giocato su questo contrasto tra Ockham e Platone. Ockham usava il rasoio di Ockham, cioè una forma di delimitazione netta della realtà, tagliava via tutto quello che non serviva. Platone invece era colui il quale moltiplicava i reali con le sue idee, no? Tutte le cose che esistono, non solo che immagini di idee appunto iperuraniche, platoniche. E allora si dice per scherzo che il rasoio di Ockham serve a tagliare la barba di Platone, la barba ontologica. Tutto il gioco dunque è capire per ogni particolare caso chi ha ragione tra i platonisti che credono che molte cose esistano e gli Ockhamisti che dicono che ne esistono poche. Casi tipici sono il dibattito sugli universali nel medioevo oppure questioni tipo l'esistenza di cose tipo le streghe. Nel medioevo, nell'età moderna si è pensato che le streghe esistessero veramente. Bene, c'è un grande regista, Karl Theodor Dreyer, che ne dà una rappresentazione famosa nel film, nel capolavoro che si chiama Dies Irae. In Dies Irae Dreyer fa vedere che quanto si credesse nell'esistenza delle streghe al punto che le donne stesse accusate pensavano di essere streghe. Oggi nessuno lo pensa più. Non esiste più la proprietà della stregoneria. Non esiste più qualcosa di vero nel mondo corrispondente al concetto di essere streghe. Altro concetto in cui si è creduto lungamente, che la scienza ha dimostrato essere falso, essere non presente nel mondo è quello di razza. Il razzismo era l'idea basata sulla tesi, l'ideologia basata sul fatto che le razze nel mondo esistono. Oggi si è dimostrato che non è così. Si è dimostrato che non esistono corrispettivi biologici, genetici, delle differenze etniche. Si è dimostrato che le affinità biologiche sono enormi tra gli individui anche di etnie diverse e addirittura si parla della famosa Eva mitrocondiale e del famoso Adamo e Y cromosonale che sarebbero i nostri antenati comuni, comuni a tutti gli esseri umani viventi oggi. Quindi siamo tutti cugini, le razze non esistono e non esistono, quindi non sono giustificate cose come il razzismo, come rappresentato nel famoso film Mississippi Burning. Quindi non esistono le razze, non esistono le streghe, però non è che sempre si va a diminuire il numero di entità che esistono, talora aumentano le entità. Per esempio in scienza a partire dal Novecento si è radicalizzata piano piano un'idea che prima era vaga, quella dell'esistenza degli atomi. Per esempio il famoso fisico Boltzmann teorizzò all'inizio del Novecento l'idea che gli atomi esistono veramente, che non sono dei costrutti teorici, degli strumenti così che ipotizziamo solo per fare i calcoli. Gli atomi esistono per Boltzmann. Peccato per lui che gli altri filosofi scienziati del periodo non ci credessero molto. Anzi il famoso per esempio Mach criticò fortemente Boltzmann dicendo che no, non era possibile che gli atomi esistessero. Noi non possiamo ipotizzare cose che vanno al di là di ciò che possiamo percepire. La fine di Boltzmann fu triste, si suicidò come molti sanno, però la sua idea vinse. Quando si affermò, sperimentalmente si dimostrò che aveva ragione un contemporaneo, un grande contemporaneo di Boltzmann, Einstein. La sua teoria del moto browniano che ipotizzava l'esistenza degli atomi si dimostrò corretta. Gli atomi esistevano, Boltzmann, Boltzmann venne come dire vendicato dopo la morte, aveva ragione, aveva ragione a cercare di aumentare la nostra ontologia assumendo che esistano entità che non possiamo percepire direttamente come sono gli atomi. Come vedete il contrasto in filosofia e in scienza tra chi cerca di accentuare e aumentare il corredo ontologico del mondo e chi cerca di diminuirlo è costante. In fondo questo credo che sia un modo di guardare alla storia della conoscenza in modo originale e produttivo. Che cos'è la realtà? Da una parte abbiamo un'intuizione oscura che ci dice ma reale è qualcosa che c'era prima di noi e ci sarà dopo di noi. Per esempio il mondo, il mondo c'era, c'era prima che noi venissimo al mondo, ci sarà quando non saremo più a questo mondo, quindi c'è questo territorio enorme che chiamiamo la realtà, ma al tempo stesso noi dentro la realtà mettiamo delle cose che dipendono enormemente da noi, cioè il fatto che noi proiettiamo i nostri schemi, le nostre intuizioni, il nostro mondo interiore sul mondo esterno, tant'è che si potrebbe dire che in un certo senso quando moriamo è tutto il nostro mondo che se ne va, quindi ogni volta unica è come se si creasse una fine del mondo. Ora la cosa interessante è che probabilmente entrambe queste dimensioni catturano un elemento della realtà, ma l'elemento più decisivo del reale io credo è innanzitutto il primo, perché il primo ci dice qualcosa del reale che è la capacità che ha il reale di essere di fronte a noi, indifferente a noi, quindi magari crudele perché sembra che non gli importi niente di noi, ma al tempo stesso ci dà un appoggio sufficientemente solido per far stare insieme tutte le cose che compongono la nostra vita.